Ben ritrovati e ben ritrovati. Allora, la Juventus è la sindrome di accerchiamento. Che ha motivo di esistere, pensarla in questa maniera, considerando le innumerevoli e irrilevanti, per esempio, intercettazioni emerse nel corso dei vari filoni negli ultimi mesi? Quindi io capisco che a un certo punto il tifoso bianconero, pensando all'extracampo, dica ma sempre noi nel mirino. Poi però, bisogna fare anche i conti con, eventualmente, gli errori individuali. Eventualmente, per Pogba, che assume una sostanza non lecita per i canoni del calcio italiano, e eventualmente Fagioli, che ieri abbiamo scoperto essere indagato in quanto avrebbe scommesso su piattaforme illegali, se ciò dovesse essere accertato, sarebbe una leggerezza individuale. Quindi, non dobbiamo nemmeno far passare il messaggio che poi il dito sia costantemente, unicamente, puntato sulla Juve. No, perché se io prendo una sostanza che non posso prendere, il problema sono io, non chi poi fa il suo mestiere con i controlli antidoping, con le eventuali squalifiche e quant'altro. Se io scommetto su piattaforme illegali, potete capire nel dettaglio su cosa eventualmente si sia scommesso, e tutto è un errore mio, e non c'entra poi chi fa il suo lavoro, gli inquirenti che vanno a pescare il calciatore di turno. Quindi, attenzione anche a creare del vittimismo acuto che non porta a nessuna parte. Se qualcuno sbaglia, in prima persona, se ne assume la responsabilità. È ovvio che, sia nel caso di Pogba, sia nel caso di Fagioli, la Juventus è parte l'ESA. Questo è... Cioè, purtroppo questi sono dei danni arrecati alla Juventus, soprattutto di immagine, oltre che tecnici, enormi. Quindi, per lo più considerando come la Juventus sia un club quotato in borsa. Quindi, io credo che il tifoso juventino sia stanco, ma vi garantisco che anche chi segue, da punto di vista giornalistico, la Juventus da tempo, inizia a esserlo. Perché, come dicevo ieri, a Juventibus, con il mio caro amico Luca Momblano, noi ci dovremmo soffermare sul gesto tecnico, sul gol, sull'assi, sull'errore, sulla propria formazione, sull'eventuale acquisti di calciomercato, sulle eventuali cessioni della stessa materia. E invece siamo diventati tutologi. Una categoria che, personalmente, detesto profondamente, ma purtroppo siamo anche nelle condizioni, noi cronisti della Juventus, di dover fare un'infarinatura di più temi. Passare dalla giustizia sportiva, anche ad altri ambiti molto più pesanti. Tribunali. E cioè, capire concretamente cosa significhi quando uno pronuncia la parola tesosterone. Ora, le piattaforme illegali, le scommesse, insomma, è diventato pesante. È diventato molto, ma molto pesante. Quindi io vi capisco perfettamente, non preoccupate, ho letto anche i vostri commenti. E ciò che provate è normale che sia così, perché uno si stanca. Alla fine, dopo martellare, 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 anche il più resiliente, tende poi un pochettino a cedere da un punto di vista mentale. Quindi, volevo dire soprattutto questo, cioè, ci sono delle situazioni in cui abbiamo la sensazione che l'antijuventinismo acuto voglia colpire principalmente il club, perché la Juve, nel bene e nel male, fa sempre grande notizia, non notizia, grande notizia, in Italia, ma anche nel mondo. Però, ci sono anche delle altre situazioni, vedi quella di Pogba, vedi quella di Fagioli, che non è il dito puntato in quanto Juve, è il dito puntato in quanto potenziali leggerezze. Voglio fare questo distinguo. Per quanto riguarda Nicolò, dobbiamo attendere l'evolversi della situazione. Oggi ho letto, di buon mattino, le prime ricostruzioni, è chiaro che è una situazione abbastanza spinosa, è normale che poi ci possa essere anche preoccupazione in casa Juve, perché, ribadisco, se la violazione del codice sportivo dovesse essere accertata, poi subentra la squalifica. Quindi, però, non andiamo troppo in là. Ho già sentito anche il parere di molti youtuber, che sono andati in maniera un po' più ampia, un po' più netta, anche sull'eventuale problema, è tutto. Io però in questo momento preferisco rispettare il ragazzo, la situazione e l'eventuale errore, perché, come dico sempre, la verità, Juventus non Juventus deve sempre emergere, quindi se uno sbaglia, è giusto che se ne assuma le conseguenze. Punto. E che paghi. Io, su questo punto, lo sapete come penso, perché, purtroppo, abbiamo affrontato già diversi temi di svariato genere che nulla hanno a che vedere con il rettangolo di gioco. al di là della vicinanza umana, perché credo che queste siano ore molto a molto difficili per Fagioli, anche un ragazzo molto giovane, un ragazzo emotivo, un ragazzo che sbaglia un gol, crolla in un pianto, dove era? Roma, se non sbaglio. E quindi sono situazioni difficili, difficili da gestire, bisogna essere bravi anche a dare il giusto supporto morale, psicologico al ragazzo, perché un conto è assumersi la responsabilità del proprio percorso, di quello che hai fatto e quello che non hai fatto. Un altro però è stare qui a me a puntare il dito e fare il pippone, che è giusto farlo, se poi dovessero emergere delle irregolarità sul comportamento di Fagioli, ma alla fine della fiera credo che poi queste cose siano giuste se vengono fatte da chi deve farle. Penso alla sfera familiare, penso alla stessa società e quant'altro. Quindi, da un punto di vista proprio umano mi spiace, mi spiace molto che poi si parli di Fagioli in questi termini e spero vivamente che dietro questo eventuale scommesse su piattaforme illegali spero che non ci sia un quadro più ampio. Ecco, nulla. La mia vicinanza va dal punto di vista umano. Poi, purtroppo, la vita è fatta di azioni e dobbiamo assumerci responsabilità delle nostre azioni. Questo è in tutti i campi, milionari o non milionari, comuni mortali come noi, questo è. Purtroppo, se si sbaglia, questo è. quindi stiamo calmi, attendiamo che i vari, proprio ci sia l'evoluzione di questo caso, ci sarà un'evoluzione, credo anche a quello che ho ricostruito ieri mattina, in tempi abbastanza rapidi. Sappiamo anche che l'entourage, o meglio, i legali di fagioli hanno parlato con una nota, lanza a Nicolò e Sereno ed è concentrato sulla Juventus e sul campionato. nella nostra qualità di legali di fagioli in riferimento all'inizio apparsa sulla stampa e data odierna riferendosi a ieri possiamo rappresentare che il nostro assistito sta affrontando con responsabilità la vicenda in ottica di massima trasparenza e collaborazione con l'autorità giudiziaria ordinale e sportiva come dimostra il fatto, aggiungono i legali, di essersi attivato per primo e tempestivamente nei confronti della procura federale. Nicolò, concludono, gli avvocati è Sereno ed è massimamente concentrato sullo Juventus e sul campionato. Quindi questa è la presa di posizione ufficiale da parte dei legali di Niccolò Fagioli per il resto non ci resta che attendere e vediamo cosa succede.